Grazie a tutti. National Geographic Festival delle Scienze, dal 23 al 29 novembre. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il National Geographic Festival delle Scienze. È un altro appuntamento con l'ottimismo della ricerca e in particolare con l'ottimismo che ha sempre caratterizzato lo studio dei buchi neri. È un appuntamento organizzato da Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Agenzia Spaziale Italiana e Istituto Nazionale di Astrofisica. Tante cose nella scienza sono affascinanti naturalmente, ma forse poche hanno il fascino e il mistero dei buchi neri. Nell'immaginario popolare sono dei mostri cosmici, sono definiti così anche dai giornalisti. Perché? Perché riescono a catturare e ingoiare tutta la materia che li circonda grazie al loro potentissimo campo gravitazionale. Ma per anni la loro esistenza è stata controversa, non tutti erano d'accordo che potessero esistere simili oggetti. È stato un dibattito molto molto lungo, finché non è successo qualcosa di dirompente. Il 10 aprile 2019 è stata pubblicata la prima fotografia di un buco nero. È stata la foto del secolo, un'immagine epocale, perché per la prima volta dimostrava direttamente l'esistenza di questi oggetti cosmici. Ha aperto sicuramente quella foto una nuova pagina della ricerca, un nuovo capitolo della scienza, dell'astrofisica e dell'astronomia. E adesso le domande sono tante su che cosa ci dirà in più la scoperta di questi buchi neri. Ma ci sono stati altri due eventi importanti. L'importanza di questo campo di ricerca intanto è stata riconosciuta nell'ottobre di quest'anno con l'assegnazione del Nobel per la fisica, non soltanto alle teorie che hanno sempre cercato di ricostruire l'origine dei buchi neri a partire dalle previsioni fatte da Albert Einstein, ma ha premiato anche la scoperta del buco nero che si trova al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Ancora prima, nel 2016, c'era stato un annuncio molto importante. Con la scoperta delle onde gravitazionali, era stata fornita anche una prova indiretta dell'esistenza dei buchi neri. Perché? Perché quel cinguettio dell'onda gravitazionale che era stato catturato dagli osservatori a terra, proveniva da una catastrofe cosmica che era la collisione di due buchi neri. Ora, nessuno mette più in dubbio l'esistenza di questi oggetti dell'astrofisica che comunque continuano a essere ancora avvolti nel mistero e pieni di fascino. Andiamo a scoprirli, a conoscere il meglio e a vedere quali sono poi le prospettive che ci offre la ricerca in questo campo con gli ospiti di questa sera. Quindi ne parleremo con Maria Felicia De Laurentiis, che insegna astronomia e astrofisica nell'Università di Napoli Federico II. È ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed è membro del Consiglio Scientifico della collaborazione internazionale Event Horizon Telescope, la collaborazione che ha fotografato il buco nero. C'è poi con noi Ciriaco Goddi, astrofisico, lavora nei Paesi Bassi fra le Università di Niemengen e Leiden, dove è nato il progetto Black Hole Cam, del quale lui è responsabile scientifico. Anche Ciriaco Goddi è membro della collaborazione internazionale Event Horizon Telescope. Luigi Stella è un astronomo presso l'Osservatorio di Roma dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e insegna astrofisica delle alte energie all'Università Sapienza di Roma. Ha lavorato negli Stati Uniti, in Germania e nei Paesi Bassi. Le sue ricerche sono pubblicate in oltre 400 articoli e riguardano stelle di neutroni, buchi neri e onde gravitazionali. Barbara Negri è responsabile dell'Unità di Esplorazione e di Osservazione dell'Universo dell'Agenzia Spaziale Italiana e per l'ASI e anche il punto di riferimento della collaborazione con la NASA e per quanto riguarda le missioni scientifiche europee e alla guida della delegazione italiana del Comitato Scientifico dell'Agenzia Spaziale Europea. Bene, a questo punto direi di cominciare questo viaggio alla scoperta dei buchi neri e lo cominciamo con la domanda più semplice e più spontanea che potremmo fare. Chiediamo perciò a Maria Felicia De Laurentiis che cosa sono i buchi neri? Intanto, buonasera. Allora, cosa sono semplicemente questi oggetti affascinanti e magnifici? Noi amiamo dire che un buco nero è una regione dello spazio-tempo in cui il campo gravitazionale diventa talmente forte che qualsiasi cosa che giunge nelle sue vicinanze in qualche modo viene attratta e catturata senza la possibilità di sfuggirne all'esterno e la superficie limite che delimita appunto questa regione di non ritorno è chiamata orizzonte degli eventi. In teoria noi li possiamo paragonare a dei corpi celesti, non propriamente i corpi celesti, ma li paragoniamo a corpi celesti che sono caratterizzati da una grande massa. Questa massa si contrae, aumenta la sua densità e crolla tutto sotto il peso, il proprio peso, concentrando diciamo tutta la propria massa in un punto detto appunto buco nero. Sembrerà assurdo, ma possiamo determinare il loro campo in modo univoco solo attraverso tre piccoli parametri. C'è la sua massa, il suo momento angolare se esso ruota e anche una carica se esso contiene la carica e quindi appunto anche dall'orizzonte degli eventi, quindi la superficie che abbiamo detto oltre la quale una volta che ci cadiamo all'interno non possiamo più uscirne. Quindi diciamo che un buco nero sarà definito ed è formato quando le sue dimensioni diventano più piccole del suo raggio gravitazionale, ovvero quando possiamo anche definire le dimensioni dell'orizzonte degli eventi. Ora, a che cosa dobbiamo insomma i buchi neri? Questi buchi neri, insomma matematicamente parlando, vengono fuori dalle soluzioni della relatività generale che venne formulata da Einstein nel 1915, il quale comprese che la massa di un corpo praticamente genera una curvatura nel reticolo spazio-temporale e non solo. Lui intuisce anche che la luce, insomma sotto forma di onda, si comporterebbe in un modo particolare sotto l'influenza appunto dello stesso campo gravitazionale. Allora che cosa fa? Compatta tutto in questa bellissima equazione, anzi equazioni anche se sembra un'equazione, sono 10, rappresentano un insieme di 10 equazioni differenziali che vengono scritte in forma compatta grazie al cosiddetto formalismo tensoriale che dà appunto il marchio delle equazioni. E cosa ci dicono queste equazioni? La parte sinistra delle equazioni è il cosiddetto tensore di Einstein e descrive appunto la curvatura dello spazio-tempo, mentre l'altra parte, quella che vediamo a destra, ci dà la presenza della materia, quindi attraverso il tensore energia-impulso. Allora che cosa succede? Cosa dicono queste bellissime equazioni? La materia dice allo spazio-tempo come curvarsi attraverso le equazioni di campo e lo spazio-tempo curvo a sua volta dirà alla materia come si deve muovere. La bellezza di queste equazioni è che ci permettono non solo di descrivere i buchi neri, ma ci permettono di descrivere praticamente la storia di tutto l'universo. E questa è la cosa più bella, che attraverso queste piccole equazioni descriviamo l'universo intero. Ora, a che dobbiamo quindi, insomma, la presenza dei buchi neri, cioè la consistenza di questi oggetti, lo dobbiamo proprio all'ultimo premio Nobel per la fisica, che è Roger Perros, perché lui ha dimostrato in modo autoconsistente il concetto di buco nero e ha dimostrato il fatto che i buchi neri sono appunto una conseguenza diretta di queste equazioni di Einstein. Lo stesso Albert Einstein a un certo punto non credeva all'esistenza di questi oggetti, quindi nel 1965 Perros provò che questi oggetti si potessero formare e li descrisse in dettaglio in quella pubblicazione del 65. Ha anche formulato un formalismo matematico per ridefinirli e fu il primo a trovare praticamente una soluzione realistica del collasso della materia e ha introdotto una cosa molto interessante il concetto di superfici intrappolate che forzano praticamente tutti i raggi di luce verso un unico centro, indipendentemente dalla curvatura di quella superficie. E questo impianto teorico ha permesso non solo a Perros, ma a tutti noi di provare che il buco nero nasconde una singolarità, quindi un confine dove lo spazio e il tempo in qualche modo cessano di esistere, quindi tutte le leggi della natura finiscono a un certo punto. Grazie, grazie mille ed è incredibile pensare a un'equazione capace di descrivere l'universo, è veramente una cosa più grande di noi, ma la storia della scoperta dei buchi neri e delle teorie che li hanno descritti è cominciata probabilmente molto prima di questa equazione splendida di Einstein. Chiediamo a Ciriago Goddi quando è che in realtà si è cominciato a pensare all'esistenza dei buchi neri? Grazie mille. Mi sentite ora? Mi sentite? Mi scuso per... Ok, mi sento. Ok, buonasera a tutti. E' vero che nel sapere comune si associano i buchi neri ad Einstein, quando invece questo concetto era già stato introdotto alla fine del XVII secolo. In particolare il fisico inglese John Mitchell nel 1783 e l'astronomo francese Pierre-Simon Laplace nel 1796, entrambi arrivarono indipendentemente a formulare l'esistenza di corpi celesti, così densi, con una forza di gravità talmente intensa da impedire alla loro stessa luce di scappare, rendendoli pertanto invisibili al resto dell'universo e chiamarono questi oggetti dark stars o corpi scuri se volete. Il ragionamento di entrambi era basato sulla teoria della gravità di Newton e in particolare sul concetto di velocità di fuga. Questa è la velocità che dobbiamo imprimere ad un corpo perché questa abbandoni la superficie del pianeta o della stella dove si trovi. Sulla Terra questa velocità è 11.3 km al secondo, quindi se volessimo lanciare una pallina nello spazio dovremmo scagliarla con questa velocità, che corrisponde più o meno a 40.000 km orari. Insomma è una velocità abbastanza elevata se relazionata al nostro quotidiano. Anche se nessuno credo abbia mai cercato di lanciare una pallina nello spazio, è quello che facciamo di solito quando mandiamo nello spazio dei satelliti. Ecco, uno potrebbe fare lo stesso esperimento nel Sole, che è ovviamente molto più pesante rispetto alla Terra, e questa velocità è di circa 60 volte maggiore, quindi circa 600 km al secondo. Ecco, se uno poi esaspera questo concetto, come avevano fatto per primi Laplace e Mitchell, chiedendosi quanto dovrebbe essere denso un corpo perché la velocità di fuga sia pari a quella della luce, che è la velocità più alta che conosciamo in fisica, circa 300.000 km al secondo. Ecco, così entrambi arrivarono a concepire per la prima volta un oggetto così denso da intrapolare anche la luce. Quindi in pratica è il concetto di buco nero, però usando la teoria di Newton, che oggi sappiamo essere non quella corretta. Passano 100 anni, in realtà 120 anni, e Einstein pubblica la sua teoria della relatività generale, che così come ha spiegato bene Maria Felicia, è una nuova teoria della gravità, dove quest'ultima non è una forza che attira i corpi l'un l'altro, ma è una proprietà di un corpo con massa di curvare la geometria dello spazio e del tempo intorno a sé. Se dovessimo riassumere la teoria in una frase, diremmo che la materia dice allo spazio come deformarsi, e lo spazio dice alla materia come muoversi. E anche la luce, oltre che la materia, segue la copertura dello spazio-tempo. Però il vero paladino nella storia di Buchi Neri non è Einstein, ma è un molto meno noto matematico e astronomo tedesco, il suo nome è Karl Schwarzschild, il quale qualche mese dopo la pubblicazione della teoria di Einstein, riceve il suo manoscritto, siamo nel 1916, quindi siamo ai tempi della Prima Guerra Mondiale, e Schwarzschild si trova al fronte in Russia, dove aveva il compito di calcolare orbite di colpi di artiglieria nemica. Quindi immaginate in che situazione rilassata si trovasse svarcita al tempo, con colpi di artiglieria che gli volavano sopra la testa, nonostante tutto si mette al lavoro e risolve l'equazione di Einstein, e trova una soluzione estrema. Trova che concentrando una quantità di materia sempre maggiore, in un volume sempre più piccolo, superata una certa soglia, la curvatura dello spazio-tempo è tale che sia la materia che la luce non possono più tornare indietro, ma cadono inesorabilmente verso un punto. Quindi Schwarzschild trova matematicamente sia il cosiddetto orizzonte degli eventi che la cosiddetta singolarità al centro, e quindi per primo trova un buco nero, almeno come concetto matematico. Ora, questo senz'altro è stato l'incipit, però c'è da dire che inizialmente il concetto di buco nero, come anche Maria Felicia ha sottolineato, non è stato accettato dalla comunità fisica del tempo, e lo stesso Einstein ne rifiutava l'esistenza. E prima che si accettassi che i buchi neri sono in realtà degli oggetti astrofisici reali, di tempo ne è passato parecchio, ed ha richiesto un numero cuspicuo di conferme sperimentali, soprattutto a partire dagli anni 70. E queste sono culminate in alcuni degli esperimenti più eclatanti dell'astrofisica moderna. A parte l'immagine di Emo 87 di cui stiamo parlando oggi, uno di questi è stato senza dubbio la scoperta del buco nero al centro della nostra galassia, che è basato su uno studio che ha seguito per circa 20 anni il movimento di una trentina di stelle, che si trovano vicino al centro della nostra galassia, e che si muovono ad altissime velocità, intorno ad un punto scuro. Parliamo di velocità di 10.000 km al secondo, quindi velocità pazzesche. Ecco, questo esperimento, iniziato nei primi anni 90, ha dimostrato che in quel punto scuro, al centro della nostra galassia, deve necessariamente risiedere un buco nero di oltre 4 milioni di volte la massa del nostro Sole. E non per caso chiamiamo questi buchi neri supermassicci, per via della loro enorme massa. Ed è questa scoperta che avva sul premio Nobel per la fisica di quest'anno ai nostri collaboratori Reinhard Genzel, del Max Planck Institute in Germania, e Andrea Ghezzi dell'Università della California. Bene, grazie, grazie mille Ciriaco Goddi, e anche per averci raccontato questa storia inedita per il grande pubblico. molti in pochi sanno che le prime intuizioni dei buchi neri risalgano a così tanto tempo fa. Adesso andiamo a completare questo identikit di questi oggetti misteriosi insieme a Luigi Stella, che ci racconta come nascono i buchi neri. Dunque, per parlare di buchi neri bisogna capire come vivono le stelle. Le stelle essenzialmente sono tenute in equilibrio dalla pressione che si genera continuamente all'interno di esse, perché bruciando combustibile nucleare genera temperature elevatissime al loro centro, e questo qui è essenzialmente quello che genera la pressione che tiene in piedi una stella contro la sua stessa gravità. Vediamo qui per grandi linee quali sono i diversi stadi attraverso cui passa una stella nel corso della sua vita. C'è una nube da cui si formano le stelle, una stella passa la gran parte della sua vita bruciando il combustibile nucleare al suo interno. Poi, quando questo combustibile nucleare inizia a finire, praticamente succede che la stella si espande sempre di più, mentre il suo nucleo si avvenza in maniera sempre sempre più accentuata. Quando anche all'interno del nucleo è finito il combustibile nucleare, non c'è più nulla che possa tenere in piedi questo nucleo. E questo ovviamente non capita a tutte le stelle, il nostro Sole non finirà così, capita soltanto alle stelle di circa dieci volte più massive, più pesanti del nostro Sole. A questo punto che cosa succede? Succede essenzialmente che si ha un collasso gravitazionale, cioè la combinazione di un'implosione nel centro di questa stella che libera tanta di quell'energia da far esplodere quella parte della stella che ancora non si è accorta di quella che sta avvenendo in questo nucleo che collassa. In effetti possiamo vedere nel filmato che segue una visualizzazione di questo in cui essenzialmente si vede questo processo. Vedete, qui avete la stella che è prossima ad esplodere, bisognerebbe tornare indietro un attimo, perché il filmato si è interrotto troppo presto. Essenzialmente questa stella che sta per esplodere, nel suo interno la materia si addensa sempre di più e vedete al suo centro rimane praticamente un punto o quasi dove si addensa tutta la massa del nucleo centrale che è collassato. Ora, se questo nucleo contiene più di tre volte la massa del Sole, allora secondo la teoria è inevitabile la formazione di un buco nero. Ora, tutto questo è un pezzo di teoria fisica, astrofisica, che è stata sviluppata nel corso degli anni ed era già arrivata a maturazione verso la fine degli anni Sessanta. Come è stato possibile trovare dunque i buchi neri se si caratterizzano proprio per il fatto di non lasciare uscire nessuna luce al di fuori di una certa superficie, appunto di questo orizzonte degli eventi? Essenzialmente è successo che dal secondo dopoguerra si è iniziato a sviluppare un tipo moderno di astrofisica, cioè laddove prima si potevano osservare soltanto attraverso i telescopi da Terra gli oggetti celesti con la luce che osserviamo con i nostri occhi, lo stesso genere di luce, essenzialmente si è cominciato a osservare il cielo in tutto lo spettro elettromagnetico e quindi essenzialmente dalle onde radio fino ai raggi X, raggi gamma. Ecco, le prime osservazioni che hanno provato l'esistenza dei buchi neri, hanno dato i primi forti indizi, sono proprio osservazioni di raggi X. Quello che è successo è che nelle osservazioni di alcune di queste sorgenti inattese che erano state trovate nella nostra galassia, qui vediamo una rappresentazione di questa sorgente molto molto variabile, tenete presente che emette in raggi X qualcosa come diecimila volte la luminosità del Sole che illumina tutti noi, ecco, circa diecimila volte di più, e si trovò che questa sorgente di raggi X era accompagnata da una stella che girava, che orbitava intorno a questa sorgente. Ecco, studiando nel moto, si è riusciti a capire che questo oggetto che emetteva questa enorme quantità di raggi X doveva avere una massa elevata, di circa 15 massa solari. Ecco, a poco a poco è maturata così la visione che possiamo vedere nella prossima trasparenza, e cioè quella di un sistema costituito appunto da una... scusate, sì, se ci sia un piccolo problema, scusate, torno indietro un attimo, va bene così la trasparenza, la slide. Dunque, perché emettono raggi X queste sorgenti appunto nel cielo? Ma il processo che pilota la fortissima emozione di raggi X di questi oggetti è essenzialmente un processo che ci è familiare. Vedete, qui state vedendo quelle meteore nel cielo, stelle cadente, come normalmente detto. Così qui non sono altro che dei granelli di sabbia, la dimensione tipica è quella, che cadono da lontano, e quindi cadendo acquistano una velocità appunto di circa 10, anche più, qualche decina di chilometri al secondo, perché attratte dal campo gravitazionale terrestre, quando urtano contro l'atmosfera, rilasciano queste scie luminose che vediamo. Ora se ne vedete una particolarmente grossetta, diciamo, l'equivalente della massa di una noce, diciamo, presso a poco, vedete una bella scie in cielo, magari che si frantuma in più pezzi, così via. Ecco, immaginate che questo stesso processo, di farlo succedere su un oggetto compactissimo, qual è un buco nero. L'energia che rilascereste, facendo cadere una noce in un contesto come quello di un buco nero, sarebbe appunto un'energia pari a quella di un'esplosione nucleare. Quindi sono macchine che riescono a liberare una quantità enorme di energia, e la materia che cade a tratta verso i buchi neri e si riscalda a temperature enormi, così elevate da emettere effettivamente nei raggi X. Quindi questi oggetti, che sono i più oscuri del cosmo, diventano tra i più luminosi del cosmo, anzi forse più luminosi in assoluto come sorgenti individuali, perché essenzialmente, non prima che la materia scompaia all'interno dell'orizzonte degli eventi, si scalda appunto tale da emettere enorme quantità di raggi X. Ecco, qui vedete essenzialmente l'idea che è maturata poi negli anni per questo genere di sistemi, cioè, vedete, sono sistemi in cui il buco nero orbita intorno a una stella normale, strappa parte della materia a questa stella normale, a patto che vi orbiti abbastanza vicina, e questa materia finisce per formare un disco all'interno del quale la materia lentamente spiraleggia verso il buco nero, e alla fine, proprio nelle regioni più interne, dove le velocità si avvicinano a quelle della luce, tipicamente sono nell'ordine di metà della velocità della luce, si ha la liberazione enorme di energia nei raggi X, ma al tempo stesso anche il lancio di due getti di materia a velocità elevatissime in direzioni opposte. Ecco, questo qui è lo scenario che già è maturato per la ricerca dei buchi neri negli anni 70, ed effettivamente il padre dell'astronomia X, Riccardo Giacconi, è stato premiato per queste ed altre ricerche nel 2002 col premio Nobel, premio Nobel della fisica in cui la parola buco nero viene espressamente menzionata, e anche l'ultimo Nobel per la fisica dato a un italiano, anche se Riccardo Giacconi ha speso gran parte della vita e ha lavorato prevalentemente negli Stati Uniti. Ora possiamo mettere la prossima diapositiva. Di questi buchi neri così fatti ne abbiamo trovati a diverse decine nella nostra galassia, si somigliano un po' tutti, e a questo punto si può chiedere quanti ce ne sono di questi sistemi effettivamente nella galassia. Beh, fatti così ce ne dovrebbero essere circa diverse migliaia, diciamo, però non li abbiamo trovati perché non accrescono sempre, crescono sporadicamente, quindi si accendono, la gran parte di loro si accende soltuariamente. Ora però, questi qui sono i buchi neri in questi sistemi costituiti di due stelle. Se consideriamo la totalità dei buchi neri abbiamo a che fare con numeri enormi, perché ovviamente c'è un gran numero di stelle che hanno vissuto precedentemente nella nostra galassia e che dopo la loro fine sono andati a formare dei buchi neri. Quindi i numeri effettivamente sono molto più elevati, si parla di numeri compresi tra circa 100 milioni e un miliardo di buchi neri di questo tipo nella nostra galassia. Però nella nostra galassia c'è almeno un altro buco nero come già è stato accennato. Però prima che passare a questo volevo farvi vedere come effettivamente la reputazione di mostri del cosmo sia giustificata per questi oggetti. E qui vediamo di nuovo un processo simile a quello che vi ho fatto vedere prima cioè un collasso gravitazionale vedete questa qui è una stella nel cui interno si sta per avere un collasso e vedete che in una frazione molto piccola dei casi questo collasso è ancora più drammatico di prima nel senso che forma subito un buco nero molto molto rapidamente rotante e il jet che si produce in questo processo letteralmente buca la stella e quando questo jet capita punti verso di noi e allora abbiamo quello che si chiama in gergo un lampo di raggio gamma sono lampi pericolosissimi nel senso che se ne dovesse capitare uno a una distanza non troppo lontana dal sole sarebbero guai e pur fortuna sono anche estremamente rari infatti quelli che osserviamo li osserviamo da distanze maggiori che abbiamo nel cosmo dicevo questi non sono tutti i buchi neri ce ne sono anche appunto di molto molto più grandi i cosiddetti buchi neri supermassici tra cui quello nel centro della nostra galassia non so se possiamo passare un attimo anche alla prossima slide così introduco rapidamente questo argomento ecco qui ci sono due galassie abbastanza simili alle nostre e vedete con braccia a spirali bene al centro di tutte le galassie per quanto ne sappiamo quasi c'è un buco nero proprio nel centro assoluto di queste galassie ecco questi buchi neri ovviamente sono cresciuti in qualche maniera sono arrivati ad avere quella massa che li caratterizza oggi cioè tipicamente tra un milione e un miliardo di masse solare anche diversi miliardi ecco come sono arrivati a formarsi questi buchi neri e sappiamo che ce n'erano già di un certo insomma di una certa massa anche molto presto nella vita dell'universo è un problema aperto ecco ora questi grandi buchi neri se capita che una stella vi passi a fianco sono in grado di distruggerla sono le stesse tipo di forze che generano le maree sulla terra per via della luna ecco quando una stella passa vicino a un buco nero se passa troppo vicina viene letteralmente disgregata e la materia che costituiva la stella va a formare un buco nero che comincia ad accrescere materia e funziona esattamente nella stessa maniera del buco nero molto più leggero che vi facevo vedere prima quello di 15 masse solari però qui le masse sono di milioni di masse solari questi qui sono buchi neri che si accendono di tanto in tanto ma in realtà nell'universo ci sia una frazione di buchi neri nelle galassie circa una galassia su cento accresce continuamente il suo buco nero al centro nel suo buco nero continuamente si riversa materia quindi diventa una macchina mostruosa di liberazione di energia prevalentemente nei raggi ultravioletti e nei raggi X e qui vediamo come funziona vedete facciamo questa zoomata in questa animazione andiamo sempre più vicini al buco nero uno di questi buco neri che per così dire mangiano continuamente e in prossimità del centro vediamo di nuovo il buco nero che accresce materia e che spara questi due getti a velocità elevatissima nel cosmo ecco qui la simulazione anzi la animazione dovrei dire eccoci qui con il buco nero il disco di accrescimento e questo qui è il cuore diciamo di questi sistemi che vengono chiamati nuclei galattici attivi grazie Luigi Stella grazie anche per queste immagini meravigliose stanno già arrivando delle domande dal pubblico io direi di completare questo primo giro di interventi e poi e poi diamo la parola diamo la parola anche al pubblico ora Luigi Stella ha citato Riccardo Giacconi io mi ricordo di averlo incontrato a Stoccolma alla vigilia della consegna del Nobel e mi è rimasta impressa una frase che mi ha detto mi ha detto noi ci prepariamo a sfogliare l'universo ecco Barbara Negri si fa con le teorie si fa con i telescopi basati a terra ma anche con missioni spaziali che negli anni passati ci hanno dato delle informazioni importanti ce ne può parlare? Certamente le missioni in orbita sono un tassello importantissimo sulla conoscenza del nostro universo e in questo caso dei buchi neri al momento abbiamo in orbita missioni molto importanti c'è il satellite tutto italiano agile i satelliti Swift Nustar e Fermi che hanno una grande partecipazione dell'Italia e questi satelliti stanno raccogliendo dati che hanno il compito di studiare in dettaglio i processi fisici in gioco nei buchi neri supermassicci dai raggi X fino ai raggi gamma e stanno cercando informazioni sulle modalità con cui la materia viene ingoiata da questo mostro centrale e sull'eventuale produzione di quei getti collimati di particelle relativistiche che vengono osservati e che producono una radiazione ad energie ancora più elevate come quelle che abbiamo esplorato tramite i dati del satellite agile e di Fermi naturalmente sono appunto processi che ci danno aggiungono tasselli alle informazioni che già abbiamo ma non solo sui buchi neri supermassicci ma si stanno facendo notevoli passi avanti anche nella comprensione dei meccanismi di emissione di buchi neri in scala più piccola che sono i cosiddetti microquasar che hanno in questo momento un grande interesse scientifico perché presentano un'emissione variabile che va dai raggi X soft fino a quelli duri e arriva anche in alcuni casi ai raggi gamma come appunto è stato scoperto da agile Fermi adesso vediamo se mi mandano alcune avevo qualche video o immagini presenti presa proprio da questi satelliti che ho citato ecco per esempio questa è stata presa dal satellite Nustar e si può vedere nella schermata diciamo nel pannello di sinistra una striscia di detriti che cade verso il disco e nel pannello di destra i detriti hanno disperso parte del gas facendo scomparire la corona per esempio questo proprio è un risultato di Nustar molto importante poi volevo vedere l'agile rivedere un attimo allora questo no c'era c'era un filmato su agile ecco allora il filmato su agile anche è molto importante perché fa vedere se ecco fa vedere il buco nero famoso 3C454.3 che appunto agile ha studiato in dettaglio con i dati raccolti poi ci dovrebbe essere anche un'interessante immagine di agile proprio una ecco questa immagine qui invece sempre raccolta da agile è uno sky map della dove si può vedere da una parte la 3C279 che è un in flare che è un blazar e poi a destra c'è la regione di Cinius X3 che è un microquasar e appunto c'è un un grande lavoro nel momento in cui si raccolgono i dati dai satelliti perché c'è tutta una una preparazione prima una scrittura con algoritmi del data processing e poi l'analisi vera e propria dei dati ma l'importanza di avere in orbita questi satelliti viene proprio dal fatto che hanno un grande campo di vista che sicuramente dallo spazio è fondamentale quindi sono osservatori raggi gamma X appunto con questo grande campo di vista ma l'altra importanza di questi satelliti che hanno una flessibilità di puntamento quindi possono essere riprogrammati nel momento in cui avviene un cioè qualcosa di transiente cioè di improvviso nel cielo e questa queste capacità in orbita hanno permesso di eseguire diverse campagne multifrequenza insieme ai telescopi a terra quindi questa appunto adesso è la nuova missione che si sta diciamo finendo di realizzare la missione XPE che è una collaborazione fra la NASA e l'Agenzia Spaziale Italiana con un lancio previsto alla fine del 2021 ed è una missione fondamentale un imaging X-ray polarimetry explorer che misurerà la polarizzazione dei raggi X emessi da sorgenti astrofisiche ci sono tre telescopi a bordo e con tre rivelatori di piano focale i rivelatori sono stati realizzati dall'INFN sulla tecnologia innovativa dei gas pixel detector e la nuova questa nuova missione XPE ha un ha molti target scientifici importanti e i buchi neri stellari e i buchi neri supermassivi sono tra i target principali ma la cosa interessante è che verrà studiato in maniera approfondita anche il caso di Sagittarius A di cui abbiamo già parlato che è il buco nero di grande massa al centro della via Lattea e data appunto la sua vicinanza a noi Sagittarius A può essere considerato un perfetto laboratorio di archeologia galattica per studiare come l'attività cannibale di questi buchi neri di grande massa possa essere cambiata nel tempo quindi diciamo il messaggio è telescopi a terra telescopi in orbita riescono a avere dati e informazioni importanti su questo su quello che è adesso una scienza innovativa che è la comprensione maggiore dei meccanismi grazie è il futuro è il futuro dell'astronomia e dell'astrofisica anche della ricerca spaziale dunque c'è una domanda di un bimbo di otto anni che vi leggo volentieri Bruno chiede quali sono state le differenze ad avere l'immagine di Sagittarius A rispetto a quella di M87 chi vuole rispondere posso rispondere io se mi sentite ok grazie per l'interessantissima domanda Bruno in realtà è una domanda molto pertinente perché il centro della nostra galassia è sempre stato il nostro target la nostra regione principale per questo tipo di osservazioni però per ironia della sorte pur essendo l'oggetto più vicino a noi il buco nero super massiccio più vicino a noi rimane anche il più complicato da fotografare e la complicazione nasce proprio dal fatto che come buco nero super massiccio non è in realtà così grande infatti se M87 riesce così grande da inglobare l'intero sistema solare Sagittarius ha una dimensione inferiore rispetto alla distanza della Terra dal Sole la conseguenza di queste dimensioni è la conseguenza principale che cambia molto più rapidamente perché se immaginate delle particelle che ruotano intorno al buco nero ci metterebbero un tempo pari a qualche minuto a girargli intorno mentre nel caso di M87 che è molto più grande ci metterebbero qualche giorno ecco le nostre osservazioni durano una notte intera abbiamo bisogno di osservare la sorgente almeno una notte intera in modo da poter ricostruire l'immagine quindi capite che se mentre la osserviamo la sorgente durante la notte cambia ogni 5 10 minuti questo complica molto le cose ora per farvi capire non so che bambino sia Bruno però se cercassi di fare un ritratto a Bruno mentre gioca con i suoi amichetti si muove non ne vuole sentire di star fermo probabilmente sarebbe molto più difficile che riesca a farne un ritratto rispetto a farlo di una modella che posa ecco questa è la difficoltà principale però dall'altro apre anche la possibilità a studiare in tempo reale il movimento di materia vicino a un buco nero e quindi il nostro obiettivo come progetto Event Horizon Telescope è quello di passare da un'immagine da una fotografia a un'immagine statica a un filmato quindi speriamo in un futuro prossimo di farvi vedere un filmato di un buco nero grazie speriamo speriamo presto dunque il tempo purtroppo stringe quindi pregherei tutti quanti i nostri relatori di sintetizzare al massimo le risposte io adesso chiederei a Maria Felicia De Laurentiis di raccontarci un po' quella foto del secolo l'immagine la prima foto di un buco nero dopodiché passerei alle altre domande del pubblico ecco la foto è stato qualcosa che ha lasciato un segno penso in tutti noi sia della collaborazione che insomma in tutte le persone a parte questo voglio dire solo che è il risultato di un grande lavoro sinergico e di squadra e che cosa vediamo in questa fantastica foto abbiamo per la prima volta una prova visiva diretta di un buco nero e della sua ombra quindi si tratta dell'immagine dell'orizzonte degli eventi del buco nero M87 questo buco nero super massiccio che ha una massa equivalente pari a 6 circa 6 miliardi di masse solari e si trova a 55 milioni di anni luce dalla nostra terra quindi al centro di questa galassia M87 che cosa vediamo in particolare vediamo questo anello incandescente colorato che varia tra il rosso e il giallo e che circonda una regione oscura se possiamo tornare sulla immagine reale forse anche un po' meglio lo riusciamo a spiegarla meglio per cercare di far capire quindi la parte luminosa del plasma dell'immagine quindi è del plasma che praticamente si surriscalda o anche è gas ionizzato noi diciamo anche e che cosa concludiamo da questa foto possiamo concludere abbiamo concluso che questo oggetto sta ruotando infatti da che cosa si vede si vede nettamente che metà dell'anello lo potete vedere una parte dell'anello è più luminosa mentre l'altra è meno luminosa questo appunto dipende dal fatto che sta ruotando il gas si surriscalda mentre ruota quindi raggiunge delle temperature come ha detto anche Luigi prima delle temperature elevatissime e quindi che cosa abbiamo che alcune parti si muoveranno anche verso di noi mentre le altre si allontaneranno quelle che si muovono nella diciamo verso di noi emetteranno una luce ovviamente più intensa quindi la parte dell'anello sotto quindi quella parte già la più grande si sta muovendo verso di noi mentre la parte quella più scura praticamente si allontana da noi è un effetto relativistico che chiamiamo effetto Doppler cosa c'è al centro di questa immagine si vede questo disco scuro ed eccolo è quello poi il buco nero o meglio quella è la sua ombra riconoscibile come l'ombra del buco nero ed è appunto il confine dove c'è l'orizzonte degli eventi quindi abbiamo proiettato cioè l'ombra è molto più l'orizzonte degli eventi è molto più piccolo dell'ombra che viene proiettata proprio perché il buco nero agisce come se fosse una lente gravitazionale distorcendo insomma le particelle luce e questa ombra abbiamo visto che è due volte e mezzo più piccola che l'orizzonte degli eventi è due volte e mezzo più piccolo diciamo della sua ombra da quello che abbiamo diciamo il risultato finale di quello che abbiamo compreso studiando questa immagine è che in questo caso tutto è compatibile con la teoria di Einstein quindi la teoria che adesso conosciamo molto bene però nessuno ci vieta di dire insomma che probabilmente nel futuro osservando potendo osservare meglio e arrivando a risoluzioni dei radiotelescopi migliori potremo ottenere molte emozioni in più questo è quello che ci dice effettivamente l'immagine e insomma mi fermo qui perché penso che non abbiamo tempo altrimenti potevamo potevo spiegare anche come si forma grazie purtroppo il tempo stringe davvero stanno arrivando veramente tante tante domande intanto ve ne leggo un'altra Christos chiede se esiste la possibilità di creare per errore artificialmente un buco nero chi vuole rispondergli? Posso provare io dunque per quello che ne sappiamo la risposta è no tutta l'evidenza astrofisica di cui disponiamo che i buchi neri almeno astrofisicamente si possano formare soltanto appunto a partire dal collasso delle stelle essenzialmente se sono appunto la parte che collassa più pesante di circa tre volte è la massa del sol adesso ciò non toglie che nei primissimi istanti del Big Bang si possano essere formati appunto dei buchi neri e questa è una possibilità che è stata valutata in molte maniere diverse attraverso gli anni e non abbiamo nessuna evidenza che effettivamente questi buchi neri ci siano alcuni pensano anche che possano questi buchi neri cosiddetti primordiali costituire il grosso della cosiddetta materia oscura che sappiamo essere presente nell'universo e che non emette luce ora la possibilità di formarle in laboratorio era stata ventilata ormai una quindicina di anni fa uno strano esperimento credo anche abbastanza controverso che avrebbe potuto dare come risultato appunto la formazione di un buco nero per fortuna la cosa non è successa perché si forma un buco nero anche se un buco nero microscopico molto molto piccolo impiegherebbe molto tempo a crescere però non c'è nulla che possa affermare diciamo questo eventuale processo di crescita progressiva del buco nero mano a mano che attira materia e la ingloba la sua interna e a proposito di crescita dei buchi neri c'è un'altra domanda di Rosa Maria chiede ma se un buco nero accresce la sua massa accresce anche la sua attrazione gravitazionale se aumentasse troppo potrebbe rompere la struttura dello spazio-tempo? Chi risponde di voi? Posso provare di nuovo io? Dunque no in realtà come dire l'equivalente della forza gravitazionale non aumenta la forza gravitazionale per così dire dovrei parlare di campo gravitazionale per essere un po' più preciso in vicinanza di un orizzonte degli eventi è praticamente sempre la stessa quindi anche crescendo il valore della massa la forza gravitazionale in termini improprio di nuovo rimarrebbe essenzialmente la stessa la cosa che cambierebbe sarebbe la dimensione dell'orizzonte che via via diventa più grande ok grazie allora abbiamo cinque minuti io chiederei a Ciriaco Goddi di rispondere proprio in modo telegrafico per numeri e cifre quanto è stata imponente la collaborazione event Horizon Telescope che ha permesso di fotografare il primo buco nero sì i risultati storici e pioneristici come questo non sono mai opera di una persona o di un istituto da soli ovvero questo poteva essere vero in passato ma al tempo attuale i progressi nell'astrofisica moderna sono sempre più guidati da collaborazioni internazionali e l'evento Horizon Telescope non è un'eccezione e nel corso degli anni abbiamo costruito una collaborazione internazionale molto ampia ormai siamo più di 300 membri che sono affiliati a più di 60 istituti diversi e che vivono in 20 paesi diversi quindi siamo una vera e propria collaborazione globale ora se questo vale per tanti progetti dove grandi consorsi sono necessari per una questione di risorse umane e risorse economiche e quant'altro per il nostro progetto questo è stato ed è vitale per la natura stessa dell'esperimento che richiede la costruzione di un telescopio globale delle dimensioni della Terra questa è la mia risposta telegrafica potrei spiegare più in dettaglio più in dettaglio la tecnica osservativa ma probabilmente non abbiamo tempo per questo e c'è un'altra domanda quanto è grande un buco nero? sempre più difficile no in realtà è una domanda piuttosto semplice nel senso che il buco nero si caratterizza per la dimensione appunto del suo orizzonte il raggio di un buco nero della massa del sole è circa 3 km e mano a mano che la massa aumenta il raggio dell'orizzonte aumenta in proporzione quindi questa qui è una grandezza facile da calcolare quindi ecco un buco nero di una massa solare circa 3 km di raggio un buco nero della massa della Terra avrebbe una dimensione di qualche centimetro tanto per capirci grazie a Luigi Stella ora per chiudere lo sguardo al futuro e nello spazio insieme a Barbara Negri che cosa bolla in pentola per la ricerca dei buchi neri quali missioni spaziali potranno andarli a cercare nei prossimi anni? Ci sono due grandissime missioni che sono in cantiere all'Agenzia Spaziale Europea la prima è l'ISA che è dedicata alla realizzazione di una grande antenna gravitazionale posta nello spazio è un sistema costosissimo intorno a un miliardo e mezzo di euro che prevede tre satelliti posti ognuno a due due e mezzo due milioni e mezzo di chilometri e fa formare un triangolo equilatero e questo triangolo ruoterà intorno al sole e ognuno di questi satelliti sono tre satelliti gemelli sarà equipaggiato da due masse di riferimento a bordo di ogni satellite e fasci laser quello che state vedendo rosso che saranno trasmessi tra un satellite e l'altro per misurare lo spostamento di queste masse con una risoluzione dieci volte inferiore alle dimensioni di un atomo quindi una precisione incredibile con questo percorso tra i tre satelliti così lungo perché appunto è posto nello spazio a distanze enormi questa antenna gravitazionale sarà in grado di rivelare le vibrazioni dello spazio prodotte da eventuali movimenti vorticosi di buchi neri però buchi neri di masse pari a milioni o miliardi di volte quelle del sole quindi super massicci che orbitano l'uno intorno all'altro pochi istanti prima di scontrarsi tra loro quindi in qualche modo è come se noi realizzassimo un microfono nello spazio in grado di captare queste vibrazioni ma parallelamente due anni prima di Lisa che verrà messa questo sistema si chiama Lisa verrà messo in orbita nel 2036 37 due anni prima il 2034 verrà lanciata l'altra grandissima missione europea Atena che è l'Advanced Telescope for High Energy Astrophysics un osservatorio in raggi X di nuovissima generazione con 12 metri di lunghezza focale e in un certo modo mettendo insieme i dati raccolti dall'ISA quindi questo ascolto delle vibrazioni quindi la detection delle onde gravitazionali e i dati di Atena opportunamente guidati da un gamma ray burst monitor che speriamo sia in qualche missione parallela in volo tipo forse Teseus se verrà selezionata dall'ESA si potrà creare per la prima volta un sistema che potrà identificare spaziando cioè da dove arriverà il segnale per l'onda gravitazionale captata da l'ISA Atena potrà andare a cercare con i suoi potenti mezzi anche la parte il riconoscimento della sorgente che ha messo quindi in qualche modo io direi per concludere con l'ottimismo noi saremo in grado certamente fra una quindicina d'anni di sapere molto di più sui buchi neri e quindi di non considerarli più come semplici divoratori di materia ma poterli vedere anche sotto un'altra luce come generatori di nuove formazioni stellari quello che in astronomia viene chiamato proprio black hole feedback grazie grazie mille chissà quante sorprese ci aspettano ancora purtroppo il tempo è scaduto e non ci resta che ringraziare tutti quanti e continueremo a seguire da lontano le nuove scoperte le nuove ricerche sui buchi neri grazie e buonasera come si può essere ottimisti ce lo dicono gli scienziati che con ottimismo guardano al futuro per immaginare e costruire un mondo migliore in un anno così sfidante per tutto il pianeta il National Geographic Festival delle Scienze riparte dall'ottimismo e dalla scienza per raccontarci il mondo che sta per venire in conferenze e dialoghi in live stream il primo passo verso il cambiamento è immaginare National Geographic Festival delle Scienze dal 23 al 29 novembre di 뉴스 di un'altra di un'altra di un'altra di un'altra Grazie a tutti